E' un cartellone che punta sulla qualità delle opere e degli interpreti, quello che Davide Cavuti ha confezionato per la stagione di prosa 2022 del Teatro Maruccino di Chieti. Il direttore artistico ha raccolto il testimone e l'eredità del compianto Federico Fiorenza. Stagione che sarà connotata da un aspetto importante che è la qualità degli interpreti, la qualità delle compagnie che verranno coinvolte e non solo, ma il binomio tra gli autori dei testi che noi metteremo in scena e il riallestimento, la rilettura in chiave anche moderna di alcuni testi. Si parte sabato 29 gennaio con la bottega del caffè di Carlo Goldoni con Michele Placido. Poi sul palco del Maruccino si alterneranno Alessandro Haber con morte di un commesso viaggiatore, Giorgio Pasotti con racconti disumani, Leo Gullotta con Bartle Biloscrivano, Ugo Pagliai e Paola Gasman con una edizione particolare di Romeo e Giulietta ed ancora Luca Argentero con E questa la vita che sognavo da bambino in una special edition, Nicola Piovani con La musica è pericolosa ed un omaggio ad uno scrittore abruzzese, Remo Rapino, vincitore del premio Campiello 2020 con Vita, Morte e Miracoli di buon figlio Liborio. Infine una serata di gala dedicata a Anton Giulio Maiano. Un grande teatino il quale ha insegnato tramite la televisione che cosa significa portare in televisione appunto i più bei romanzi dei più grandi autori europei. Il Maruccino dunque torna al centro della vita culturale della città di Chieti. La volontà dell'amministrazione comunale è che il capoluogo diventi un punto di riferimento a livello regionale e nazionale. Merita assolutamente, vista la sua vocazione, di puntare a quel turismo culturale al quale noi crediamo e siamo certi di poterlo riuscire a portare a compimento anche grazie soprattutto al Teatro Maruccino.